Radio UC Focus. Bentrovati a un nuovo Focus Previdenza, rete fissa e mobile, le agevolazioni per i disabili. Le persone con invalidità che comportano gravi limitazioni della capacità di deambulazione possono ottenere uno sconto sulle offerte di rete fissa oppure di rete mobile. L'agevolazione è stata disposta dalla delibera numero duecentonovanta del duemilaventuno dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello specifico per la rete fissa è possibile ottenere uno sconto del 50% dell'offerta voce e dati per la quale si sia già sottoscritto un contratto oppure scegliere tra le vere offerte quella più adatta alle proprie esigenze sempre con lo sconto del 50%. Per quanto riguarda la rete mobile i principali operatori selezionano per gli utenti con disabilità alcune offerte applicando uno sconto del 50%. L'utente potrà scegliere un'offerta voce e dati inferiore a 50 gigabyte ma comunque superiore a 20 gigabyte un'offerta con disponibilità di dati maggiore di 50 gigabyte un'offerta illimitata. L'agevolazione però non può essere richiesta per entrambe le offerte di rete fissa e mobile. Per ottenere lo sconto il richiedente deve compilare e inviare entro e non oltre il primo aprile 2022 il modulo di adesione disponibile sul sito degli operatori nella pagina dedicata alle agevolazioni per utenti con disabilità è necessario allegare il verbale di handicap con il riferimento alla legge numero 388 del 2000. Lo sconto sarà poi applicato per un periodo sperimentale di 12 mesi a partire dal 30 aprile 2022. E da Giulia Cassone è tutto al prossimo Focus. Radio UG